Buon pomeriggio amici ascoltatori e ben trovati da Carlo Bellotti al Trastevere Stadium in Roma 28esimo turno di Serie D, Girone F, il Trastevere ospita il Nereto Invece intervento di Massimo e Crescenzo, poi Macri danza ancora sul pallone, Macri lo lascia a San Nipoli Allargato su Emiliano Massimo di prima, verso Fioretti, Palermo e in due tempi poi blocca Pallone ancora però del Trastevere dopo l'errore in fase di costruzione, attenzione a San Nipoli Prova a cercare l'ingresso in area, poi allarga per la penna, uno contro uno, la penna, il numero, la penna in area di rigore Ancora sinistro al centro, deviazione e sarà calcio d'angolo, si salva il Nereto in questo caso Fischia, anzi dà il suo ok l'arbitro, Crescenzo, il pallone spiove con una mano Palermo Poi il colpo di testa, doppio con Giordani che non inquadra la porta, clamorosa occasione a pochi passi dalla linea di porta Pallone recuperato dal Trastevere, Emiliano Massimo, San Nipoli al centro Crescenzo di prima, Fioretti restituisce al numero 8, Crescenzo calcia Palermo in due tempi Pasqualoni per Giordani, avanza e cerca Crescenzo di prima, il pallone per Macri, lo vuole portare lui Va a sfidare la difesa, poi 1-2 con Crescenzo, bellissimo, ancora Macri, vince giù, arriva il fisco Il direttore di gara, calcio di rigore per il Trastevere Parte la rincorsa, Macri, spiazza il portiere, porta avanti il Trastevere al 23esimo minuto del primo tempo Chiede l'aiuto di Torromino, poi attenzione, vince il rimpallo, falsetta, ingresso in area, falsetta, calcia ma non inquadra la porta Pallone verso San Nipoli, deve tenere, lo fa molto bene, poi cerca la sventagliata con Crescenzo in area di rigore Lo stop, Crescenzo al centro, deviazione la rete, con Macri che mette a segno la doppietta Allora al terzo minuto della ripresa, 2-0 Trastevere Verso Cipriani, dall'altra parte, ancora Nereto, area di rigore per falsetta, serie di doppi passi Poi calcia, il pallone fuori, battuta lateralmente con Chinappi che poi torna in possesso della sfera Ancora il suggerimento, non è in fuorigioco, il tiro di La Penna che per poco non trova il terzo gol del Trastevere Verso Pedalino c'è il fuorigioco, secondo la panchina del Trastevere, non è d'accordo il guardialini Ancora il cambio fascia con falsetta in area di rigore, la sposta sul mancino, falsetta calcia Semprini si oppone molto bene, poi Giordani E arriva qui il triplice, fischio finale, vince il Trastevere che torna al successo in casa Grazie alla doppietta di Davide Macri, bravo a realizzare prima su calcio di rigore Poi a sfruttare la palla messa al centro da Crescenzo, fa festa anche mister Mauro Mazza per questa vittoria